Movimax presenta... La divettrice della banca. Ci ha fregato. Dobbiamo rimettere la bomba. Siamo rimasti chiudi nell'ascensore! Che cazzo vuol dire farci uscire? Non sei da solo? No. Forse era destino che dovessi prendere quest'ascensore. Quando si tratta del rischio della vita, scegli sempre la soluzione più facile. Boh, ci aspetta, io c'ho ancora la bomba! Non è bomba? Siamo solo in questo momento. Sali e basta. Piano 17. Il nuovo film dei Manetti Pros. A marzo, nei cinema. A marzo, nei cinema.